Ciao a tutti ragazzi bentornati in questo nuovo tutorial ragazzi in questo nuovo video vi spiego come risolvere alcuni errori su Windows Defender a causa di questo errore 0x8050800C sia su Windows 10 che su Windows 11 quindi come risolvere questo errore a causa perché può succedervi che l'antivirus non risponde, l'antivirus non funziona quindi non potete anche disabilitarlo, abilitarlo, non potete fare nulla quindi in questo caso non dobbiamo fare altro che una pulizia totale attraverso il prompt dei comandi quindi cmd andiamo un attimo su cmd quindi cmd che sarebbe il prompt dei comandi fate esegui come amministratore, fate sì scrivete sfc spazio slash scannow e fate un invio, fate invio, farà così un avvio in corso dell'analisi del sistema attendiamo ok ragazzi quindi in descrizione vi ho lasciato un comando da inserire su cmd fate ctrl v quindi copiate quel comando e fate ctrl più v eccolo qua in questo caso ci permetterà di fare una pulizia dell'immagine un ripristino dei nostri programmi di Windows soprattutto anche quello di Windows Defender perché una volta fatto ragazzi vi consiglio di riavviare il vostro pc ok una volta fatta tutta questa procedura arrivata al 100% ragazzi fate exit una volta fatto ragazzi vi consiglio di riavviare il vostro sistema quindi grazie a tutti per questa visione ragazzi se questo video è stato utilissimo io vi consiglio di lasciare un like, iscrivetevi al canale e noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial ciao